Se state cercando un personal trainer, un architetto o un veterinario, beh, buona fortuna. Sono tutti impegnati a scegliere una nuova auto, perché FCA ha pensato a chi lavora in proprio. Hai solo dicembre per scegliere bonus impresa, il vantaggio dedicato alle partite IVA sull'acquisto dei veicoli del gruppo. Ad esempio su Jeep Compass il bonus è di 7000 euro sul prezzo di listino. Scopri di più su bonusimpresa.it Ben trovate a un nuovo appuntamento con Forbes Leader, la trasmissione che vi accompagna alla scoperta del mondo Forbes, che in questa occasione, nella puntata di oggi, si focalizza su una delle componenti, su uno dei tanti temi che Forbes segue nella sua quotidiana attività, che è il tema dell'innovazione. Per parlarne è con noi oggi il Digital Strategist di Forbes, Valerio Bassano. Grazie Marco. Allora Valerio, ci avviamo ormai alla fine di un anno. È forse il momento giusto per fare anche tirare qualche bilancio sull'ecosistema italiano dell'innovazione. Di recente c'è stato uno studio da parte del Politecnico che credo abbia fatto proprio questo. Sì, sì, c'è stato uno studio che Politecnico produce ogni anno con la sua divisione Startup High Tech, Politecnico di Milano, sugli investimenti raccolti dalle start-up italiane nel corso del 2018. La buona notizia, quella interessante che ci fa più piacere, è che questo è stato un anno record per le start-up italiane a livello di venture capital. Sono stati raccolti 598 milioni di euro, quindi vicinissimi alla soglia dei 600 milioni. E quindi, diciamo, questo è un po' un punto di non ritorno in positivo per le start-up italiane, perché si va verso quella soglia immaginaria potenziale del miliardo di investimenti raccolti nel corso dell'anno solare, che si spera, insomma, di superare entro l'anno prossimo o quello successivo. Ci sono state molte start-up finanziate e molti investimenti sono anche arrivati dall'estero. Questa è la cosa interessante. Addirittura abbiamo il primo investimento a tripla cifra nella storia italiana, che è quello raccolto da Prima Assicurazioni, 100 milioni di euro, raccolti tramite due piattaforme di investimento e l'investimento arriva da Goldman Sachs. Quindi dagli Stati Uniti, dall'estero, è arrivata una parte di questo investimento, circa il 38%, di quello totale raccolto dalle start-up italiane, il 62% invece ancora dall'Italia, ma appunto abbiamo un paio di record da celebrare assieme. Quindi si va verso finalmente un ecosistema più sano e più appetibile anche per gli investitori esteri. Quest'anno è stato veramente importante per le start-up in Italia. Benissimo, grazie. E per continuare a parlarne abbiamo intervistato Marco Gai, che è amministratore delegato di Digital Magics, quindi uno dei protagonisti dell'innovazione in Italia. Lo abbiamo incontrato per capire dalla loro viva voce, dalla sua viva voce, l'andamento dell'ecosistema dell'innovazione in Italia. Parliamo di innovazione oggi e con uno dei suoi protagonisti in Italia, Digital Magics, oggi qui con il suo amministratore delegato Marco Gai. Allora, di cosa si tratta? Cosa fa Digital Magics e com'è nata? Digital Magics è, come amiamo definirla noi, un business booster, un incubatore di start-up e PMI innovative, che nasce nel 2003 dall'idea di Enrico Gasperini, Alberto Fioravanti, Gabriele Ronchini e Bipop Cresta, come un'azienda in cui si prende il talento, lo si sviluppa e lo si fa crescere. Quest'anno festeggiamo anche il quinto anno della quotazione sull'AIM di Borsa Italiana. Digital Magics sceglie, cerca le start-up nel panorama digitale italiano basandosi su quattro pilastri sostanzialmente. Il primo pilastro è l'idea, quindi un'idea che sia innovativa, disruptive, come si usa dire per un mercato di riferimento in Italia, o che la cambi, trasformi e innovi un intero mercato. Il secondo pilastro che abbiamo è il team, quindi la capacità dei fondatori, che devono essere già un gruppo di persone che non solo possiedono l'idea, ma anche hanno le capacità per muovere i primi passi. Il terzo pilastro è la capacità di andare sul mercato, perché ci può essere sicuramente un'idea vincente con un buon team e un'ottima caratteristica, ma deve anche individuare come muoversi sul mercato, e avere una prima idea di dove andare per poi avere il quarto pilastro, che è il business plan, quindi i conti che permettono di realizzare questo progetto. Dall'analisi di queste caratteristiche, Digital Magics seleziona le start-up che possono poi entrare nel proprio portafoglio su un deal flow di 1.500 aziende all'anno, in cui poi 10-15 diventano partecipate da noi, ma noi soprattutto vogliamo fare i soci, perché su queste quattro caratteristiche in realtà ci piace affiancarci, siamo capaci ad affiancarci, costruire e finalizzare l'idea, nel potenziare il team, o tirare fuori tutto il talento che i fondatori hanno, nell'individuare le strategie di mercato, perché poi, come dicevo prima, la capacità poi di raggiungere clienti nazionali e internazionali è importantissimo, e nell'aiutare poi l'azienda, grazie a un buon business plan, a realizzare questo progetto e poi, oltre al nostro investimento, a essere attrattivi per gli altri investimenti del mercato. In questi anni abbiamo avuto una trasformazione anche secondo quelli che sono i megatrend di mercato, cercando sempre, anche nella selezione che facciamo, di anticiparli e di capire quali saranno le prossime tendenze, ma non come fatto di moda, ma come fatto di impatto nell'innovazione e sul mercato, e quindi abbiamo un portafoglio di oltre 65 start-up partecipate, che in questo momento sono attive, quindi stanno compiendo questo percorso di crescita e trasformazione, il 10% circa sono già scale-up, quindi sono aziende che sono passate dalla fase di start alla fase di app, quindi iniziano ad avere un percorso di internazionalizzazione, iniziano ad avere anche delle metriche, dei numeri, che le rendono a tutti gli effetti aziende, quindi fuori da quella prima fase iniziale. I settori su cui operiamo sono nove, vanno da settori come l'energy, l'health, la comunicazione, quindi le piattaforme di comunicazione, l'internet delle cose, il fintech, la parte relativa alle persone, quindi lo sviluppo dei social, delle comunità, e soprattutto che abbiano impatto nell'industria più tradizionale, perché questo è un altro ottimo viatico, infatti noi siamo molto concentrati anche sullo sviluppo di processi e progetti di open innovation con le aziende italiane, per portare l'innovazione delle start-up a chi ne ha bisogno, cioè le piccole, medie e grandi aziende italiane, oltre a programmi di accelerazione specifici, come quello che abbiamo appena concluso sul fintech e insurtech, o quello che stiamo per lanciare che riguarderà la retail revolution, o ancora progetti che hanno anche una visione, data la nostra posizione di azienda prima in Italia nella capacità di creare innovazione, con le nostre sedi italiane e la nostra sede lontinese, come l'ultimo progetto di accelerazione che si chiama MIA, Miss in Action, che vuole far crescere l'imprenditorialità delle fondatrici di start-up al femminile. Ha citato poco fa il settore del fintech, voi siete un caso un po' particolare in Europa perché so che avete nove start-up incubate, tra l'altro poi in Italia il fintech forse fa un po' fatica rispetto ad altre realtà nazionali europee. Sì, noi abbiamo da sempre creduto nella innovazione che le start-up del mondo fintech possono portare al mercato maturo della finanza, delle banche e alla capacità di questo mercato di innovare e di innovarsi. Proprio per questo abbiamo fatto l'anno scorso un progetto di accelerazione che si è concluso adesso sul fintech e siamo obiettivamente un unico per un incubatore digitale trasversale come il nostro ad avere nove aziende a portafoglio di cui siamo soci che si occupano di fintech e insurtech in maniera disruptiva. Alcune di queste iniziano già a essere scale-up. Mi viene in mente, prestiamoci, che è la principale italiana piattaforma di peer-to-peer lending. Growish, che è un sistema di pagamento innovativo che prende la collettazione dei pagamenti per viaggi, vacanze, regali e operazioni dei privati sulla loro vita di tutti i giorni. E tante altre sempre con l'attenzione di voler innovare e voler essere contributori di realizzare aziende di successo italiane ma che abbiano un grande afflato internazionale ed è per quello che quest'anno abbiamo iniziato il processo di internazionalizzazione del digital made in Italy con l'apertura della sede di Londra. In questo ci muoviamo, sostenendo che il talento in Italia c'è, la capacità, la passione, la voglia di fare impresa ce l'abbiamo un po' nel DNA e quindi grazie alle sedi locali lo aiutiamo e grazie al progetto che abbiamo in piedi con una nostra start-up che ormai è una scale-up, è diventata un partner, Talent Garden e con il nostro principale azionista privato che si chiama Tamburo Investment Partner abbiamo realizzato un progetto che si chiama Digital Made in Italy che ha l'obiettivo di andare from talent, quindi dal talento dei ragazzi, to IPO con la costruzione di valore che ci vede tutti coinvolti per realizzare grandi progetti di successo e soprattutto per far sì che la grande tradizione del made in Italy, grazie all'innovazione, grazie al digitale, diventi la nuova tradizione del prossimo decennio. Grazie dottor Gai, amministratore delegato di Digital Magics. Ed eccoci di nuovo in studio per continuare a parlare di innovazione seppur cambiando argomento perché ora parliamo di dove l'innovazione nasce, in qualche modo viene coltivata e Valerio anche in Italia sta finalmente arrivando una moda, una moda positiva già presente da tanti anni all'estero che è quella dei co-working. Recentissima, proprio di qualche giorno, la notizia dell'arrivo di WeWork, il numero uno mondiale anche in Italia. Assolutamente, chiaramente quando si fa innovazione, quando si creano ecosistemi di innovazione c'è anche bisogno di un habitat in cui le cose avvengano e i co-working negli anni sono dimostrati assolutamente uno degli spazi privilegiati per far sì che questo succeda. Per citare WeWork, che nominavi adesso? Sì, è il leader dei co-working a livello mondiale, con pochi competitor con così tanta presenza capillare all'estero. Stanno in 75 città, aprono la prima sede italiana nell'arco di un anno e mezzo, un anno, un anno e mezzo da ora. Due sedi in realtà a Milano, una in via Mazzini, l'altra in via Meravigli. Quindi, insomma, accoglieremo anche questo nuovo brand del co-working, una vera e propria istituzione in Italia. Tra le novità che potremmo anche citare, l'apertura di Le Village di Credit Agricole, che è un ecosistema per start-up con 200 postazioni di lavoro, anche queste in apertura su Milano, è una notizia di pochissimi giorni fa, insomma l'inaugurazione fresca fresca. E a Tender ospiteranno appunto una circa una ventina, 25 realtà diverse, al momento sono 5 o 6, ed è un modello testato a Parigi che ora arriva anche in Italia. Quindi è interessante anche vedere un'esperienza estera che si impianta sul nostro territorio e vedere che cosa ne nasce, insomma. E poco fa parlavamo di WeWork come leader mondiale, anche l'Italia ha il suo leader, si chiama Talent Garden. Abbiamo incontrato il fondatore di Talent Garden, che è Davide Dattoli. Oggi siamo a Talent Garden, lo vedete alle nostre spalle, si tratta del più importante co-working in Italia, per la precisione siamo a Calabiana, a Milano, e con noi c'è il fondatore di Talent Garden, Davide Dattoli. Allora, vediamo una bellissima immagine di questo co-working. Qual è il vostro segreto? Cosa vi sta caratterizzando nell'offerta in Italia e non solo? Talent Garden nasce con una chiara missione, provare a essere un abilitatore per aiutare a far crescere l'ecosistema in Italia ed in Europa dell'innovazione digitale. Noi siamo verticali all'interno di questo mondo e proviamo a costruire un luogo che sia la casa di chi si occupa di innovazione, che siano grandi imprese, start-up, libri professionisti. Proviamo a essere il luogo dove le cose accadono, dove chi vuole portare avanti i progetti ha tutti gli strumenti per poterli realizzare. È un luogo di co-working, dove oggi stanno più di 500 persone, è un luogo dove si impara. Ogni anno in Talent Garden si formano più di 500 nuovi ragazzi, più di 2.500 manager su quelle che sono le nuove professioni del digitale. E ogni anno avvengono quasi 300 eventi che provano a connettere tra di loro gli innovatori digitali italiani con il resto delle imprese europee. La vera sfida dell'ecosistema oggi è proprio essere connessi in un'Europa e quindi Talent Garden è presente a Milano, ma è presente anche in altre 23 sedi in 8 paesi europei. E questa, la vostra, è una formula che evidentemente ha funzionato, tant'è che ora la state esportando in tutta Europa. Dove precisamente? Assolutamente sì. Noi siamo partiti analizzando più di 150 città in tutta Europa e abbiamo cercato di capire dove l'ecosistema aveva più bisogno di crescere e dove dall'altra il nostro impatto poteva essere più ampio. Mettendo insieme una serie di diversi dati, costruendo un nostro algoritmo, abbiamo deciso quali sono le prossime 25 città dove Talent Garden può avere più impatto e aiutare davvero lo stimolo dell'economia digitale in città. Oggi siamo presenti in Irlanda, un mercato incredibile, perché tutte le grandi tech che arrivano dagli Stati Uniti si basano lì e oggi abbiamo un Talent Garden in collaborazione con l'Università di Dublino che ci ha scelti per sviluppare tutto il loro programma di entrepreneurship. Siamo a Vienna con Free Under Startups, il più grande incubatore del paese, con il quale abbiamo stabilito una partnership proprio per aiutarli a sviluppare nuove imprese sul territorio. Siamo in Danimarca, dove è un ecosistema molto connesso a quelli che erano Skype, Spotify, dove ci sono una serie di talenti che stanno creando nuove imprese e progetti globali. Ma siamo soprattutto in tutti dei paesi in via di sviluppo, dove c'è una grandissima quantità di talento, dove si parla molto l'inglese, dove il digitale è molto diffuso, quali la Lituania, la Romania e l'Albania. Insomma, Talent Garden è un bellissimo esempio di innovazione italiana che va all'estero e che ha successo. Salutiamo il nostro ospite di oggi, Davide Dattoli. E dopo questo nostro viaggio nell'innovazione, che era il centro della nostra puntata odierna, passiamo adesso a un tema che è un altro dei cardini della comunicazione di Forbes, ossia la finanza, vista con i nostri occhi, quindi vista con gli occhi degli italiani che stanno nel cuore della finanza europea, a Londra, con la nostra Angela Antetomaso. Francesco Castelli, Head of Fixed Income, Banner Capital. Francesco, ci puoi parlare un pochino di lei? Come è arrivato ad essere Head of Fixed Income, Banner Capital, nella City di Londra? Sì, sicuramente è stato un percorso particolare. Io penso che, alla fine, io ho sempre fatto un po' lo stesso lavoro, mi sono sempre occupato di mercati fixed income, quindi di obbligazionari, in particolare di credito. Quindi, un elemento fondamentale è stato per me avere la chiarezza all'inizio della mia carriera di cosa volevo fare e la fortuna di poter operare in un certo settore. Questo ha richiesto anche, probabilmente in fase formativa, di avere le basi giuste. Quindi, sicuramente, per quelli che fanno il nostro lavoro, una base quantitativa, matematica e statistica molto importante. Quindi, non fermarsi alla semplice laurea, ma sicuramente il Master in Economics per me è stata una cosa molto importante, perché mi ha permesso di acquisire sia una base statistica importante che una base economica importante. Ci occupiamo di obbligazioni, capire dove va l'economia e il ciclo economico è fondamentale. Ho avuto l'opportunità di lavorare in varie società a Milano e poi, in maniera un po' strana, perché di solito si viene a Londra subito dopo la laurea, a me invece è capitato quando avevo 40 anni. Quindi è stata una cosa un po' particolare, non facilissima dal punto di vista familiare, soprattutto per noi grandi. I miei figli sono cresciuti qui e si trovano bene. per una coppia sposata da un po' di tempo che si muove a 40 anni qui a Londra, invece è un po' più complesso. È difficile sentirsi a casa. Dal punto di vista professionale, però, è stato un balzo importante da Milano. Milano rispetto a Londra dal punto di vista della finanza, mentre magari è capitale dal punto di vista della moda, dal punto di vista della finanza, Milano è un po' più periferica. Quindi sostanzialmente, anche se ormai l'informazione oggi a livello globale, però il rapporto con gli altri operatori di mercato e soprattutto il rapporto con le società, che per noi è molto importante, perché noi studiamo le singole società per l'applicazione del nostro metodo di investimento, sicuramente essere su una piazza molto internazionale come Londra è un grosso vantaggio, perché espone a tutta una serie di contatti personali che non sono riproducibili, diciamo, su base digitale, quindi come informazione a distanza. Detto questo, quale vantaggio competitivo ritiene che possa davvero vantare un italiano quando si trova ad operare poi in un contesto estero? L'italianità da sola può essere un plus? Io mi sono fatto l'idea, vivendo all'estero, che noi italiani siamo mediamente superiori dal punto di vista tecnico e quindi anche le nostre università offrono una preparazione media molto alta in prospettiva internazionale. Quello che ci manca è l'organizzazione come nazione. Noi siamo una nazione di grandi individui organizzati poco e quindi dal punto di vista professionale secondo me questo vantaggio dell'italianità viene fuori molto facilmente e quindi si vede nelle grandi banche londinesi ci sono un sacco di italiani che hanno fatto una grandissima carriera perché sono persone di grandissima qualità. Il problema è che spesso facciamo carriera in società estere. Non è il mio caso, io ho la fortuna di lavorare in una società italiana che è presente qui a Londra però è anche vero che spesso la ricchezza nazionale non solo in soldi ma in cultura viene sfruttata purtroppo dall'estero e fa soldi andando a lavorare per un estero e non per un'azienda italiana. Quindi quali potrebbero essere i principali vantaggi di una carriera internazionale per un professionista ma anche per un giovane italiano? Sicuramente lavorare all'estero dalla possibilità di vedere circolare anche idee che stando in un singolo paese non è una questione di provincialità dell'Italia perché l'Italia non è così provinciale come a volte la dipingiamo però sicuramente stare in città multiculturali come Londra dove gira tanta gente anche Londra attrae un polo che attrae anche il Medio Oriente attrae gli orientali sicuramente dà un vantaggio anche dal punto di vista del business adesso io mi occupo molto di banche però ormai anche la digitalizzazione delle banche è un fenomeno molto importante e il fatto che ci siano delle presenze anche dall'Oriente anche a livello tecnologico è un grosso vantaggio cosa che qui a Londra posso sperimentare di prima mano e magari in Italia farei più fatica a vedere Pensa di tornare in Italia comunque nel prossimo futuro? Assolutamente sì io penso che tornerò in Italia sicuramente resto molto italiano dentro di me questo non sempre viene facile da capire ai miei figli che ormai si sentono inglesi quando gli dico beh ragazzi prima o poi andrò in pensione in Italia loro mi dicono certo papà ma tu andrai nel countryside nella campagna inglese il progetto no è di tornare nella cara Italia che è sicuramente uno dei paesi più belli al mondo Quindi ha ancora senso credere nell'Italia nonostante tutto? L'Italia secondo noi continua a essere un grande posto per fare business c'è un sacco di business interessante sicuramente non sempre è facile per gli italiani fare business perché lo sappiamo ci sono tanti ostacoli che vanno abbattuti sia a livello burocratico che anche a livello lo vediamo finanziario in termini di difficoltà di finanziarsi però resta comunque una delle principali economie mondiali poi come dicevo prima c'è grande qualità delle persone e questa qualità oggi si paga poco perché gli stipendi dei neolaureati che sono di grandissima qualità lo sappiamo sono molto bassi quindi in Italia lo vediamo anche noi e siamo presenti in Italia si può lavorare ancora bene con ottime risorse umane e fare ottimi investimenti anche in Italia e a livello umano l'Italia offre un avvantaggio rispetto alla Gran Bretagna secondo lei? beh, allora fermo restando che qui in Gran Bretagna ci sono delle eccellenze universitarie la mia impressione però che sicuramente ci sono delle eccellenze come Oxford e Cambridge che è difficile battere però poi se uno guarda la preparazione media dello studente italiano non è assolutamente basso io ho la percezione anche vedendo poi quelle che sono le esperienze cioè sui giornali inglesi si parla apertamente di un problema del sistema scolastico e quindi ci sono le eccellenze poi la media non si capisce mai a che livello è ecco in Italia per quanto noi insomma non siamo particolarmente così contenti del nostro sistema educativo però il risultato del lavoro che viene fatto nelle università è un risultato che produce comunque una media di studenti di un buon livello peccato che tanti scappino e vadano a lavorare all'estero ecco ma poi se hanno queste possibilità di lavoro all'estero è perché effettivamente l'università ha prodotto qualcosa di buono e poi magari con l'idea di tornare in Italia però eh sì tanti insomma è difficile pensare che il numero di paesi più belli dell'Italia è basso diciamo mettiamola così quindi sì in fondo un po' a tutti noi espatriati rimaniamo sempre col sogno di tornare indietro prima o poi perfetto grazie mille a Francesco Castelli Head of Fixed Income Banner Capital grazie a voi siamo arrivati alla conclusione anche di questo nostro appuntamento di oggi ringraziamo Valerio Bassan che è stato in nostra compagnia grazie il Digital Strategist di Forbes ricordiamo e per tutti i nostri ascoltatori l'appuntamento è alla prossima puntata Consulenti finanziari siete pronti? parte l'albo aggiornamento contabilità contrattalistica gestione portafoglio Blue Advisor la piattaforma per i consulenti finanziari prova gratis www.blueadvisor.com e poi 주변 aggiornamento costruz tutti i nostri